Abbiamo avuto casi di falsificazioni di firme della zia, della nonna, del parente, della cucina, indebitata tutta quanta la famiglia perché è un bisogno compulsivo, non è il bisogno di un momento, di un imprenditore, di una persona che sta attraversando una difficoltà. Sono genitori, mogli, mariti esasperati a rivolgersi sempre più di frequente allo sportello antiracket quando i costi economici, familiari, sanitari, sociali della malattia del gioco, dipendenza, a tutti gli effetti, anche se non da sostanze, si fanno insostenibili. A causali diverse la ludopatia rischio il 5% della popolazione e l'approccio deve essere per questo necessariamente integrato fra più competenze con l'obiettivo dell'informazione corretta e della prevenzione, che si fa a partire da auspicabili interventi legislativi per stringere i controlli e frenare la tendenza alla liberalizzazione del settore delle scommesse e per porre un limite massimo alle giocate. Lo ha sottolineato a conclusione della tavola rotonda organizzata dallo sportello antiracket il procuratore aggiunto di Lecce, Antonio De Donno, un ufficio, quello leccese, in prima linea come altre procure nella repressione del terminale naturale del circolo vizioso che anche il gioco patologico innesca, l'usura. Reato che si alimenta di soggezione psicologica, forza di intimidazione ed è difficile da perseguire sia per le previsioni stringenti come la dimostrazione del superamento del limite del tasso soglia, sia perché le indagini non si attivano senza le denunce, che aumentano, ma si può e si deve fare di più. Denunziate perché quando denunziate poi noi siamo in grado di operare. Se non c'è la denuncia di iniziativa noi non possiamo partire.